Appena finito il Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento della stagione per il Mondiale Formula 1, non cambia chi vince la gara di turno, ovvero Max Verstappen cambiano invece le forze in campo per quanto riguarda il podio perché finalmente da tifoso McLaren, posso dirlo, McLaren rediviva con Lando Norris e Oscar Piastre in qualificazione e con l'inglese sul podio per un podio peraltro nobile completato da Louis Cavalier. Una gara che è stata comunque interessante per le posizioni del podio, per la gara vera, cioè per chi avrebbe effettivamente vinto in realtà mica tanto perché è il copione, è sempre lo stesso, per la sesta volta di fila vince appunto Max Verstappen, sono cambiate però le forze in campo per quanto riguarda chi c'è dietro Verstappen, se abbiamo visto una Ferrari competitiva nelle prime gare appunto dopo gli aggiornamenti, quindi Spagna, Canada e in parte anche Austria, evidentemente non è più così per quanto riguarda Silverson. È tornata la Mercedes, è tornata la McLaren, addirittura la Williams ha fatto passi da gigante, ma andiamo con ordine perché per una volta è stata una gara dominata da Max Verstappen ma vinta con un margine ridotto di vantaggio anche per un episodio che cambierà in realtà la gara anche della Ferrari. Con ordine però partiamo dalla partenza, per una volta Max Verstappen fa un errore, Norris lo brucia in partenza, Verstappen rischia di perdere la posizione anche su Oscar Piastri che sarà uno dei delusi di questa gara per la strategia, per la safety car. Norris per qualche giro si azzarda addirittura a rimanere in testa a Max Verstappen che in realtà sarà solo una manciata perché l'olandese poi avrà ragione del pilota inglese al quinto dei 52 giri previsti. Si prosegue e non succede praticamente niente, sembra veramente una gara congelata per le posizioni che contano con appunto Verstappen primo, Norris secondo e Oscar Piastri terzo quando a un certo punto succede questo, ovvero la Haas di Kevin Magnussen ha un problema al motore che si rompe e di conseguenza viene chiamata safety car e da qui in poi arriverà il waltzer dei pit stop per una strategia in generale per la gran parte dei piloti che è stata rivoluzionata. Tant'è vero che negli ultimi dieci giri molti piloti avevano gomme diverse, Verstappen aveva le morbide, la McLaren aveva le gomme dure, la Mercedes aveva le gomme morbide, evidentemente con Russell e con Hamilton la Ferrari una gomma media e una gomma dura ma ne parleremo e effettivamente un gran mischione. Alla fine ne beneficia Lewis Hamilton che fa comunque una discreta gara beffando Oscar Piastri e pit stop e facendo podio. Chi viene danneggiato in parte da questa strategia è la Ferrari ma non per la safety car in sé quanto per le scelte sbagliate evidentemente fatte al muretto. La Ferrari fa una gara letteralmente del gambero e arriverà in posizioni evidentemente orrende. Chi invece arriva in posizioni sorprendenti è appunto la McLaren, sapete che io sono un tifoso della scuderia arancione che quest'anno o meglio in questa gara aveva una divisa o una livrea meglio celebrativa per i mondiali vinti ai tempi delle frecce d'argento. Io avrei preferito onestamente la livrea completamente argentata invece c'era questa livrea arancionera che comunque lasciava ovviamente rifarsi gli occhi. Per una McLaren che appunto ha portato aggiornamenti in Austria lo sappiamo con Norris li ha portati anche qui con Oscar Piastri infatti pronti via secondo Norris terzo Piastri in qualificazione. Piastri poteva addirittura puntare appunto al podio numero uno in carriera la decima gara da rookie e invece evidentemente ha dovuto soccombere a Lewis Hamilton Piastri in realtà mancherà l'appuntamento con il podio per poco meno di un secondo. Tutto questo invece per dire che è tutto bello la lotta per il podio con poi anche la lotta per le posizioni di rincalzo perché alla fine Tolto e Verstappen erano tutti effettivamente attaccati appunto tutti tranne Verstappen perché vince ancora una volta in Formula 1 sesta vittoria consecutiva l'ottava in questa stagione. Ho perso il conto evidentemente dei punti di vantaggio che ha rispetto agli avversari se la settimana scorsa in Austria ho detto che il mondiale è platonico già non a gara lo è evidentemente già anche alla decima appunto competizione. Per un Verstappen che allunga platonicamente a 255 punti in classifica sono 99 99 i punti di vantaggio su quello che resta di Sergio Perez che finisce in sesta posizione ma evidentemente con l'ennesima gara di rimonta ma su Perez evidentemente ne parleremo. Andiamo però a scrollare la classifica per quanto riguarda le prime 10 posizioni appunto primo Max Verstappen suona Helvi Lesnus lo sappiamo, secondo Landone Nostro che fa il primo podio della stagione dopo un inizio terrificante con la McLaren che era un cesso di macchine sostanzialmente. Alla fine da Austria Norris ha avuto gli aggiornamenti e infatti si è visto gli aggiornamenti li ha avuti anche Piastri e infatti si è visto. Piastri finalmente con una macchina decente ha dimostrato di essere un pilota di grandissimo talento, il pilota probabilmente del futuro, uno dei piloti del futuro evidentemente della Formula 1. Norris invece si consacra con il settimo podio in carriera in Formula 1, miglior risultato e guagliato, Norris non ha ancora mai vinto in Formula 1. Chi si conferma invece è Lewis Hamilton, terzo podio nelle ultime quattro gare, ancora una volta una terza posizione, Hamilton poteva evidentemente giocarsela secondo me con Norris per la seconda posizione ma questa McLaren con le gomme dure evidentemente ha avuto la meglio di questa Mercedes con le gomme morbide, qualcosa di clamoroso. evidentemente il setup della McLaren Mercedes era migliore della Mercedes ufficiale, sappiamo che la Mercedes per discorso di setup non ha azzardato a usare le gomme dure insieme evidentemente a una strategia provata nelle libere ed evidentemente ha funzionato, probabilmente con un po' di fortuna in più Hamilton poteva puntare secondo me la seconda posizione. quarto è Oscar Piastri che effettua praticamente la miglior gara della carriera, poteva evidentemente puntare al podio se non forzata per quella safety car da parte della Haas, comunque è una grande prestazione di Piastri, se la McLaren è questa attenzione nelle prossime piste perché potrebbero essere veramente una variabile importante per i podi adesso che si è giunta anche Mercedes e che la Ferrari sembra invece essere tornata indietro ma della Ferrari ne parleremo. quinto è George Russell per una Mercedes che comunque si risolleva come detto prima, l'unica scuderia appunto a non aver utilizzato le gomme dure in gara sta proprio lei e infatti ha pagato i dividendi per una gara che poteva essere condotta soltanto in quel modo anche se Russell in questo momento è inferiore a questo Lewis Hamilton. sesto è Sergio Perez, lo dico senza problemi, Sergio Perez è la delusione del giorno senza se e senza ma insieme alla Ferrari, Sergio Perez ancora una volta fuori dalla Q3 addirittura questa volta fuori dal Q2 addirittura partiva sedicesimo ed è arrivato sesto perché comunque ha la miglior macchina del Circus solo che ancora una volta gara di rimonta ed effettivamente uno può avere la miglior macchina del mondo ma se continua a fare gara di rimonta e non porta a casa il minimo sindacale francamente è una delusione, quella macchina del genere Perez dovrebbe puntare a essere secondo tutte le volte senza se e senza ma e invece soltanto sesto peraltro facendo molta fatica. settima posizione per quanto riguarda la gara di Silverstone è Fernando Alonso con un Aston Martin che in realtà ha fatto un passo indietro rispetto alle grandi prestazioni che abbiamo visto fino in Canada ottavo è il sorprendente ma forse non più di tanto Alexander Albon che di fatto correva in casa sappiamo che il tailandese in realtà è nato a Londra quindi conosce benissimo tutti i circuiti inglesi in particolar modo Silverstone e si è concesso il lusso di stare davanti alle due Ferrari che sono di fatto ancora una volta la delusione della gara almeno qui in quel di Silverstone perché nono finisce Charles Leclerc e decimo Carlos Sainz e qui il muletto Ferrari la fa da padrone con la strategia sbagliata sappiamo che la Mercedes e la Ferrari hanno provato le gomme rosse in prova per utilizzarle in gara la Mercedes come accennavo prima ha effettivamente applicato la strategia che ha fatto nelle libere perché evidentemente con quel setup lì le gomme dure non erano funzionali ci si aspettava che facessero le stesse cose anche in casa Ferrari e invece no Leclerc diciamo viene richiamato dieci giri prima evidentemente del previsto o comunque dieci giri no molti giri prima del previsto per il primo stop e per delle posizioni in pista rispetto ai suoi avversari in più quando c'è la safety car viene rimessa ancora una volta la gomma gialla sacrificando la gomma rossa quando nel frattempo Leclerc ha messo le gomme dure e nelle gomme dure evidentemente Leclerc ha perso in eternità Leclerc ricordiamo partiva in quarta posizione chi partiva appena dietro di lui è stato Carlos Sainz che finisce sempre dietro al Monegasco ma ai margini della zona punti una Ferrari che comunque ci aspettava essere la seconda forza del mondiale non può in questo momento fare una gara del gambero finendo ai margini della zona punti o comunque subito a ridosso perché non è dieci ma è usato veramente che si può permettere una Williams un Alpine di turno Sainz finisce decimo mette le gomme dure alla termine della secondo stint il problema è che le gomme dure non durano e Sainz perde una marea di tempo probabilmente ha un calo inspiegabile viene passato da Albon è passato dall'Aston Martin ha rischiato di passare anche Gasly prima che si ritirasse insomma abbiamo rischiato di avere un Carlos Sainz ai margini della zona punti comunque fuori con una strategia veramente scellerata la Ferrari evidentemente butta una potenziale top 5 nella gara di Silverstone non sfruttando quelle gomme rosse che probabilmente potevano essere sfruttate come ha fatto Mercedes e infatti Mercedes appunto è finita in terza e in quinta posizione essere battuti da una Williams che di certo è tutto fuori che era la miglior macchina dell'otto per la Ferrari è un'onta che secondo me si fa fatica a dimenticare è vero che Albon è un gran bel pilota e ha un ruolino di marcia invidiabile per avere una Williams ma appunto Albon ha una Williams è vero che la scuderia inglese era competitiva in questo momento e Surgent ha rischiato di andare in zona punti ma comunque appunto una Williams non dovrebbe avere cittadinanza diciamo nei duelli con la Ferrari e invece a sto giro è successo tempo di risettare dunque evidentemente le idee in casa Ferrari e non solo per poi spostarci evidentemente tra due settimane nel circuito ungherese di Lungaro Ring, circuito molto tecnico dove non si può superare a differenza di Silva dove qualche sorpasso comunque si è visto in particolare per le lotte a 100 gruppo è un po' questo un po' il brutto della Formula 1 nel senso che tolto Verstappen o Bello a seconda dei punti di vista tutti gli altri piloti sono effettivamente lì è stata una bella gara per quanto riguarda il podio e le posizioni a rincalzo del podio per la vittoria non c'era assolutamente discussione e questo toglie un po' di pathos, un po' di fashion secondo me a questa gara di Silverstone che qualcosina secondo me ha potuto raccontare e offrire a noi spettatori il mondiale rimane sempre concluso perché io francamente non mi ricordo un mondiale con un distacco così elevato già di fatto a metà probabilmente dovremmo scomodare Schumacher e quella Ferrari che vinse a luglio praticamente il mondiale con millemila gara di anticipo ma c'era un sistema di punteggio diverso e macchine diverse ma siamo probabilmente a quei domini lì neanche probabilmente il miglior Hamilton quando c'era Bottas in seconda posizione Verstappen continua a fare quello che voleva, oggi ha vinto con un margine ridotto per via della safety car è vero che non aveva quel margine clamoroso come in Austria però appunto è un mondiale che ripeto è bello che è finito se il mondiale di Formula 1 è bello che è finito però alla decima gara non lo è di certo nella categoria propedeutica si riapre infatti totalmente il mondiale di Formula 2 perché il leader Frederic Vesti fa una qualificazione orrenda al sabato al venerdì meglio, al sabato comunque beneficia dalla griglia inversa e va a vincere la feature race o meglio la sprint race della gara di Silverstone ma si ritira nella gara che conta di più la feature race oracolata per gli inseguitori in particolare Théo Purcher e Ayumu Iwasa in particolare il francese accorcia di fatto meno 6 rispetto al danese che comunque vince la sprint race di Silverstone il quale suona il sogno nazionale ovvero c'è una terra felice in seconda posizione abbiamo avuto comunque Purcher che ha limitato i danni in questo weekend di Silverstone e probabilmente è lui che ci ha guadagnato di più evidentemente rispetto evidentemente a Frederic Vesti terzo invece è Jack Duan protagonista di una grandiosa lotta con Oliver Berman e con Fittipaldi il compagno peraltro di team qualche anno fa Duan alla fine ottiene il suo secondo podio della stagione Victor Martins invece trionfa in gara feature è la prima vittoria di carriera per il campione regnante della Formula 3 per il quale suona la marsigliese una gara vinta peraltro dominando Martins era pure penalizzato i 5 secondi per aver di fatto fatto un sorpasso al di fuori del mito della pista e quindi aveva questa penalità incombente riesce comunque a imprimere un vantaggio considerevole e di conseguenza vittoria strameritata per il francese quinto assoluto nel mondiale di Formula 2 in seconda posizione il mio idolo il Barbadiano terzo podio stagionale per Zay Maloni che finalmente si riscatta dopo dei weekend a Catalogna e in Austria orrendi arriva il podio delle piste sue preferite e seconda posizione per speriamo il rilancio di Zay Maloni terzo appunto invece Pursher il pilota del Sauber Junior Team che appunto con questo secondo e terzo posto duplice accorcia a meno 6 e la Formula 2 tornerà appunto al Red Bull Ring o meglio al Lungaro Ring per di fatto il quinto ultimo appuntamento della stagione un mondiale che comunque è ancora lungo a differenza di quello della Formula 3 che invece dopo Silverstone avrà soltanto tre gare alla conclusione un mondiale di Formula 3 che vede ancora una volta leader Gabriel Bortoleto il pilota di costanza di questa Formula 3 che comunque non fa mai sfracelli arriva sempre al traguardo e porta punti importanti a casa per il suo mondiale ancora il leader con 128 punti il distacco comunque è considerevole 36 punti di vantaggio su Pepe Martì il più immediato inseguitore le gare però non le vince ovviamente Bortoleto nemmeno Martì arriva la vittoria di Franco Colapinto prima vittoria in stagione per quanto riguarda il pilota argentino Junior Team della Williams per il quale suona il suo inno nazionale per appunto la seconda volta in carriera in Formula 3 prima in questa stagione secondo è il Bortoleto di qui sopra Team Trident brasiliano punti d'oro per il numero 5 nella squadra del padre di Luca Salvadori terza posizione invece per Christian Mansell il pilota australiano al primo polio della carriera in Formula 3 in un circuito comunque che conosce ovvero Silverstone la gara sprint o meglio si archivia così la gara feature invece vede un'altra maiden victory prima vittoria di carriera per Oliver Goethe il pilota tedesco fa risuonare il canto dei tedeschi per una vittoria importantissima che in realtà non conta ai fieri della classifica perché Goethe non è un uomo di classifica secondo polio della stagione per l'altro alfiere del team Trident che comunque fa doppietta perché il nostro Ronaldo Fornaroli fa una buonissima seconda posizione partiva pure dalla pole il pilota piacentino e comunque è un pilota che si sta facendo e sta crescendo insieme all'altro italiano che è comunque più quotato Gabriele Minì terzo invece è José Maria Martí che invece fa terza posizione e limita i danni un po' nella gara feature ma il distacco appunto è considerevole meno 36 si scrive nel confronto di Gabriele Bortoleto abbiamo parlato di Gabriele Minì lo citiamo perché ha fatto comunque delle gare costanti quinta e settima posizione per il pilota di Palermo che comunque terzo assoluto appare in merito con Paul Aaron in un mondiale Formula 3 che sembra in realtà più indirizzato a 3,20 dal termine questo dunque è il racing pot per quanto riguarda la gara di Silverstone per Formula 1, Formula 2 e Formula 3 fatemi sapere cosa ne pensate evidentemente di questa gara di Silverstone che ha dato qualche spunto interessante però per le posizioni che praticamente non contano cioè dal podio in giù anche se comunque abbiamo visto una McLaren ridiviva una Mercedes ridiviva una Ferrari che ha fatto la gara del Gandolo fatemi sapere cosa ne pensate per la vostra scuderia preferita ci si risente tra due settimane per quanto riguarda il racing podcast per l'ungaro ring e settimane prossime invece per il campionato superbike che corre evidentemente l'appuntamento di Imola il saluto da parte di Matthew Thorgaard ci vediamo al prossimo video